C'è la consapevolezza, il cinismo di Charles Bukowski per cui non cerchiamo affetto ma successo. C'è quel tentativo di guadagnarsi, come già previsto da Andy Warlow, un quarto d'ora di celebrità. C'è un argomento feroce e dispido in una scrittura che conquista. Tutto questo nel nuovo libro di Paola Bottero, Faceboom, dedicato alla vita ai tempi dei social. Facebook è quel luogo in cui si riesce a confondere un like con l'apprezzamento reale nella vita. È quel luogo in cui è facile riuscire a confondere la realtà e vedere l'apparenza come sostanza. Quindi è un luogo in cui è ancora più eccessiva questa tendenza che la nostra società ha da parecchio tempo di confondere le cose, di perdere di visti contenuti e di limitarsi a un bello che non è nemmeno bello, a un bello che è detto bello, a ciò che si dice essere bello, a ciò che si dice piacerci. Anche i sentimenti più veri, i rapporti più sacri, sacrificati sull'altare dell'apparenza e dunque che fa un'umana si delinea. Da un po' di tempo esploro questo problema perché mi sono resa conto che le belle persone hanno bei sentimenti e laddove mancano i sentimenti a volte mancano le belle persone. Quindi esplorando questo tipo di problemi e cercando delle risposte innanzitutto, perché comunque scrivere serve soprattutto a vedere più lucidamente quello che non ci piace, mi sono resa conto che alcuni strumenti, soprattutto i social ma non solo, possono portare ad abolire completamente i sentimenti e quindi a confondere le cose. E questa è un po' una denuncia anche, è un grido d'allarme, è un modo per dire state attenti, stiamo attenti, io per prima, siamo attenti a non confondere, a non perdere di visti fondamentali. Sulla copertina una cartina dell'Italia fatta a pezzi, nei capitoli fatti di storie incatenate, i nomi dei protagonisti e quelli delle città, con l'idea che i social ed il virtuale abbiano globalizzato rapporti e sentire. È la globalizzazione, la parte brutta della globalizzazione, cioè quel momento in cui il like diventa più importante di qualsiasi altra cosa e la vita raccontata è più importante della vita vissuta. La stessa persona che mi scrive su Facebook non continuare a parlare o a dire faia, il fatto che me lo scriva significa che comunque cerca un consenso anche su quello. È il cercare il consenso che non funziona più. A tutti piace piacere, ci mancherebbe. A tutti piace avere consenso, essere apprezzati. Bisogna vedere su che cosa si cercano consensi. Le azioni sono un po' cancellate in tutta Italia. È ovviamente una crisi sociale, che sia una crisi determinata da Facebook o determinata da altro. È una crisi in cui siamo arrivati tutti insieme. Facebook ci permette di vederla in modo più chiaro, ci permette anche di eliminare le distanze, perché appunto che sia Trieste, che sia Torino, che sia Catanzaro o qualsiasi altro posto d'Italia non cambia niente. Cambia magari la forma dialettale, ma niente di più di questo. Un appiattimento e un desiderio di apparenza che non fa differenze tra uomo e donna. Io credo molto nella donna. Ci ho messo tanto perché ero, non dico un antifeminista perché sbagliato, però non ero convintamente vicina a un movimento che ha fatto la storia, che apprezzavo storicamente ma che non comprendevo nel più profondo. Diventando grande vorrei rinascere donna, mentre fino a qualche anno fa avrei voluto rinascere uomo, perché è più difficile comunque da donna esistere e entrare in un certo modo nella società. Credo nella donna e credo che la donna sia quella che può fare la differenza di ogni società. E non lo dico perché lo dicono tutte le società. Laddove la donna ha raggiunto un livello di emancipazione più alto, la società è più alta. Laddove la donna sta ancora lottando per ottenere i diritti fondamentali, la società è più arretrata. Detto questo, nella corsa all'apparenza non c'è differenza di genere, assolutamente. È una corsa all'apparenza che è umana. Non è né maschile né femminile né trans, è umana.